Vuoi il gelato? Alla frutta però, ti viste? Margherita Salem è passata, dai sei il migliore, ti ha detto, ti viste? Ma tu sei maschio, sei femmina però, sei il migliore. Ci vediamo. Ciao. Frida. Frida? Ciao. Oddio, che bello. Avrei potuto fargli una foto, ma il telefono è scaricato. Va bene, non fa niente, la prossima volta. Ciao, papì, ciao. Ciao. Per il meno un gare a mare però, eccolo. Guarda i pesci. I pesci è un piccione. Eh? Eh? Va sta, va sta. Va sta. Va sta. sei che? sei che? sei che? no no, direi che sei che bello 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 ma perché lavori anche tu a Castello del Lovo? grande, voglio un collega un collega di lavoro mi piace benissimo, sei numero uno eh, troppo buono grazie bello hai giovane questo? si si, hai 4 anni e dietro invece c'era quello che pulisce la cumana questo sarà il bradisismo che dici? oh, sto parlando con te e qua non è bradisismo questo che si è alzata la crosta terrestre qua che bella spiaggetta ma tu hai visto? ti vuoi fare un bagno? ti ha fatto un bagno? ecco qua ecco qua siamo arrivati eh, porto un pappavallo a me e come ti porto a te? eh, come lo porto? come ho fatto una ruota da camminare? posso portarlo a pappavallo perché esiste? no, tu non esiste? vengo pure io eh, non esiste se non esiste eh sì, pure chi ha apparito vengo pure io tu vieni sempre con me vengo sempre, guarda tu ho fatto una macchina è la macchina ah è la macchina ho fatto una macchina e che le l'ha intratta la macchina? ha fatto proprio un buonaita che umida al giro che è quella? non la ricordo che hai detto? che è quella? ho fatto un po' che è così che è così